Il nostro video studio di Radio Number One è stato ricchissimo di ospiti per tutta questa settimana. Allora, quattro giorni, siamo alla quarta serata e io vedo uno scattante carico Ermal Meta. Ciao Ermal, benvenuto. Ciao Guglielmo, vedi come sono scattante? Vai, sì, guarda, sei più credibile quando canti, devo dire che fai questo. Hai ragione, hai ragione. Senti, no vabbè, a parte gli scherzi. Felici di rivederti al Festival di Sanremo, cavolo, ogni volta che vai a Sanremo ci porti una bella canzone, questa volta una canzone d'amore, una canzone d'amore vero, d'amore che è combattuto, che è concreto, no? Grazie, grazie Guglielmo. Sì, beh, più che, guarda, è una fotografia, è una fotografia questa canzone, perché poi sai, parlare d'amore è sempre così complicato, è meglio fare delle fotografie, secondo me. Questa canzone rappresenta una fotografia, sono molto felice che, insomma, sia, che molta gente l'abbia guardata questa fotografia, che l'abbia guardata e che l'abbia notata. E io sono immensamente orgoglioso di questa cosa. Tu in questi anni comunque sei partito, mi stavo riguardo un po' la tua fotografia, da quando eri piccolissimo con la passione per la musica, ti è stata trasmessa dalla tua mamma, quindi è qualcosa che è sempre stato dentro di te, essere un artista. Essere un artista? No, non è che uno si definisce artista, cioè lo decidono gli altri se tu sei un artista. La musica, sì, la musica è sempre stata in me, sono cresciuto con la musica e sono arrivato ad un certo punto che, per fortuna, ho iniziato a vivere anche di musica e lo ritengo un grandissimo privilegio. Qual è la cosa più bella che questi mesi così difficili ti hanno lasciato? Ci sarà qualcosa di positivo che hai trovato in questo periodo così complesso che stiamo vivendo? Magari è che dal rapporto col pubblico. Ma guarda, il rapporto col pubblico è sempre stato meraviglioso per quanto mi riguarda e mi è mancato molto, ma se c'è qualcosa che mi ha lasciato questo periodo è la voglia di concentrarmi sulle piccole cose, su quelle che alla fine rendono profondamente felice una persona. E questa è una cosa bella, sai perché stavo ripensando a una tua canzone di qualche anno fa, si chiama Io mi innamoro ancora, dove tu esalti le piccole cose perché dici io alla mia macchina gli voglio bene, alla mia casa anche se non c'è il mare, quindi però cavoli non è facile guardare queste piccole cose nella vita di tutti i giorni. Però poi sai, quando ti vengono a mancare, per qualcosa che non avresti mai potuto nemmeno immaginare, quando le piccole cose vengono a mancare, sono un po' appannate da quello che si sta vivendo, alla fine ti rendi conto che ad essere felici ci vuole poco, veramente poco. Ci vuole poco, 2021 allora è ora di ripartire, è ora di darsi da fare, 2021 dopo Sanremo cosa bolle nella grande macchina dei desideri di Ermalmeta? Beh guarda, nella macchina dei miei desideri c'è veramente qualsiasi cosa, c'è tanto, troppo forse, però il 2021 è ancora un anno strano, quindi io che amo molto il mare preferisco navigare a vista in questo caso, quindi di desideri avrei tanti, voglio fare concerti, voglio andare in giro, voglio fare in store, voglio incontrare un sacco di persone, però in un periodo così bisogna pensare prima alla sicurezza, bisogna pensare a fare tutto nel modo migliore possibile, navigare a vista, quando sarà possibile sarete i primi a saperlo. Allora noi navighiamo a vista verso un milione di cose da dirti, è stato un piacere stare con Ermalmeta, con la promessa magari di vederci in radio quando sarà possibile, per fare una cacchierata più approfondita. Appena sarà possibile mi piomberò da voi. T'aspettiamo, a Bergamo non c'è il mare ma puoi navigare. E anche a Milano c'è il mare, tranquillo. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao.